Allora, qui c'è il circo, vedremo che la via Nirone fa un percorso del genere, porta cinese dove siamo passati, no, no questa non esiste più, se è la città romana, foro, vabbè, complesso più scherzo, teatro, ma non è indicato il palazzo imperiale, allora che lo mettono a fare. Ah, ecco qua, questa era l'area del palazzo imperiale, vedi com'è grande? Poi vi farò vedere che c'è una via in questa zona che si chiama via Olmetto, dove c'era un olmo dentro il palazzo imperiale, questa zona qui erano le terme, quindi è una zona di rappresentanza. Tra l'altro il palazzo imperiale, vedete che è attaccato al circo, la gente veniva da fuori città nel circo e c'era un passaggio segreto dove l'imperatore entrava, sì però il circo, qui lo dicono, ma era bello lungo perché poi adesso andremo verso di là e vedremo due torri che erano parte del circo.